Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo Amici di Radio Bruno, eccoci qua di nuovo in diretta dalla nostra postazione a Sanremo e sono qui con Leonardo Monteiro, benvenuto, finalmente sei arrivato da noi, allora io voglio sapere subito che emozione hai provato appena hai messo piede a Sanremo beh l'emozione è grandissima, poi qua si crea davvero un'aria di grande gioia e anche un po' di tensione per chi dovrà salire su quel palco per cui devo dirti che sono molto felice di far parte di questo festival si crea un po' una sorta di Sanremo Landia World è vero? è vero, in una settimana allora prima volta sul palco dell'Ariston prima volta sul palco dell'Ariston ecco, quali saranno le tue emozioni insomma prima di salire su quel palco e cos'è che penserai in quel momento? beh, allora, sicuramente non mi faccio aspettative perché quelle rovinano l'esperienza e ti disconnettono dal momento presente voglio salire sul palco ed esprimere attraverso la miglior forma che conosco che è quella attraverso la musica, quelle che sono le mie emozioni con il mio brano spero che il pubblico le recepisca in un qualche modo con me e poi sono felicissimo di avere un'orchestra così grande alle spalle è sempre stato uno dei miei sogni avere un'orchestra per cui nel mio piccolo, già durante le prove generali ho realizzato un piccolo sogno adesso insomma diventerà sempre più grande e non vedo l'ora allora, nonostante la tua giovane età hai già un bagaglio di esperienza incredibile perché hai iniziato molto presto all'età di sette anni a studiare pianoforte, canto moderno e canto gospel e poi addirittura anche hai studiato danza alla Scala di Milano io uscivo da una comunità educativa perché mia mamma non aveva una situazione molto avvantaggiata per cui insomma ci ha messo in questa comunità e io volevo un po' scappare da quella realtà in cui spesso viene etichettato come il ragazzo della comunità insomma per cui ho abbandonato quella realtà, ho sognato, ho sempre sognato quindi a un certo punto ho realizzato questa cosa con il provino alla scala e sono uscito dalla comunità per andare a fare la Scala di Milano ho lavorato un po' con la scala e poi ho deciso di provare quello che era il mondo della televisione che anche se fa parte lo stesso del mondo dello spettacolo è ben diverso dal teatro per cui volevo un po' provare questo mondo diverso ed è stata un'esperienza di grandissima crescita io avevo 18 anni e piccolino e poi niente, dopodiché sono andato all'estero, io a New York ho lavorato lì un po' come ballerino e poi io vivevo ad Harlem, lì ci sono un sacco di chiese gospel che attraverso insomma la musica venerano qualcosa di più grande mi sono affezionato a questo mondo avevo raggiunto il massimo che potevo come soddisfazione dal punto di vista personale come ballerino per cui ho deciso di accostare la danza e dedicarmi al canto e così è stato poi sono tornato in Italia perché mi mancava la mamma mi mancava il parmigiano non che in America non ci sia l'Italia ragazzi, la cucina italiana e mi mancava il pubblico di casa in un qualche modo per cui sono tornato qua in Italia ho proseguito i miei studi appunto di canto e pianoforte e ho fatto un po' di gavetta con qualche band nei locali di Milano e poi finalmente è arrivato Sanremo però voglio chiederti preferisci la danza o il canto? beh guarda lo sai che è stato sempre uno dei miei dilemmi però insomma con il corso del tempo ho capito che la mia miglior forma di espressione la ritrovo attraverso le corde vocali riesco ad esprimere esattamente ciò che voglio dire invece con la danza spesso ho trovato delle lacune però la danza io la terrò sempre nel cuore insomma io l'attività fisica secondo me è importantissima fondamentale fondamentale per cui mi alzo la mattina me la faccio sempre la mia mezz'ora di plie, plie, grand plie e lo farai anche prima di salire sul palco? prima di salire sul palco ho un altro rito che è quello della meditazione ah ecco mi siedo un attimo faccio un po' di silenzio mentale siamo bombardati da tantissimi pensieri al giorno per cui esatto fare silenzio non è facile quindi mi prendo un attimo respiro prendo quelle che sono le energie dell'universo io sono molto credente in Dio in qualcosa di più grande ricarico i chakra che sono dei punti energetici nel corpo e cerco di affrontare la mia esibizione senza essere come dire offuscato da pensieri inutili che spesso possono possono come dire distrarre però parliamo un secondo del brano che porti sul palco dell'Ariston Bianca che messaggio vuoi trasmettere? Bianca è la relazione fra due persone che finisce purtroppo a causa di un tradimento certo il messaggio che cerco di dare con questo brano è comunque un messaggio di speranza spesso una relazione può finire ma se l'amore è vero dura sempre allora qualche mio amico mi credeva Leonardo ma come fai a parlare del tradimento così quando il tradimento fa molto male l'abbiamo subito chi? esatto nei vari modi fa malissimo diciamo che una ferita ha bisogno di tempo per rimarginarsi per cui con il corso del tempo quando le ferite si rimarginano secondo me si possono ricordare quei bei momenti ahimè di una storia finita male e chissà magari un giorno veramente trovare un'anima gemella quindi ricredere di nuovo nell'amore io sono uno che crede alle mille sfaccettature che offre l'amore per cui vorrei dare un messaggio un messaggio così è un messaggio che arriverà dritto al cuore di tutti gli italiani e non solo grazie Leonardo Monteiro un saluto agli amici di Radio Bruno un saluto enorme a tutti gli amici di Radio Bruno un abbraccio Radio Bruno in diretta dal Festival di Sanremo in collaborazione con Grissin Bon Modena Giochi Alessara Gesthouse Mondo Convenienza Rosanna Alpi Concessionaria Renaud Franciosi Cornacchini ODS Giocattoli e B per Banca